ma Gerardo piace la birra, la birra da birra, e la birra a quantità e si mangia c'è il ciocco, maiole c'è il ciocco Alea giochiamo a Pio che c'ha? 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 vai, shit, la io faccio la tecnica del bagno, ve lo dico esco a cazzo duro voi state lì? io sto a cazzo duro nel bagno eccoli da me, da me, stanno qui vieni dentro, stai dentro perfetto, fuori sono morto andate, andate, avete... avete visto no? dove stavano? bravi, fategli il giro, bravi sono al laptop allora stanno arrivando, stanno... non rivedo più da qua non rivedo più da qua ragazzi ma rilevato? double down, double down, double down, double down, double down fammi entrare fammi entrare, porca puttana stai giocando non c'è da tornare indietro si, ma non si può giocare così eh, ragazzi cambiamo, cambiamo dai, non è possibile eh, non è possibile cioè, ma bene tutto ma non vanno giù compagno a terra, ne restano due non c'è da tornare sei rimasto solo, tovaris vediamo di cosa sei fatto vediamo di cosa sei fatto c'è un cattivo c'è un cattivo e lo guardo di ferro mi faccio entrare perché tanto ci devo andare a terra un minuto rimasto nemico a terra mamma mia ho fatto i quattro mamma mia non ferma la sponda ah, ci schiattate proprio solo così potrei farne quattro porca puttana questo video deve salvare eh, vale il letto è visibile eh, va beh, è fuori 30 secondi rimasti vedo te che la buona sei giusto così non mi scontro si si